10.000 euro per il primo vincitore del concorso Chieti Classica proveniente da? E' una pianista che tra l'altro studia in Austria, studente in Austria di origini russe tra l'altro, abbiamo avuto due premiati sia di origini russe sia di origini ucraine, questo ci fa molto piacere perché è un segnale per il mondo che la musica unisce e abbiamo avuto tre vincitori veramente di altissimo spessore, il primo premio 10.000 euro, il secondo 5.000 e il terzo 3.000 con due prove, tre giorni molto serrati, una prima prova da 20 minuti e una seconda da 20.000 euro. 40 minuti abbondanti, durante le quali la commissione ha potuto naturalmente valutare tutti gli aspetti artistici di un interprete al pianoforte perché a questo livello non ci sono parametri base, sono tutti parametri di altissimo spessore culturale, l'interpretazione, la bellezza del suono, il fraseggio, la dinamica, la gogica, diciamo che è un mondo molto complesso da spiegare in due parole, però ecco, è come se una persona esperta di quadri osservasse un'opera importantissima in un museo tipo il Louvre e dovesse spiegarla. Ci vuole troppo tempo, ma la bellezza a volte è bella godersela senza doverla spiegare a tutti i costi. E qui a Chieti, questa Chieti Classica è una manifestazione che ormai si sta imponendo nel panorama anche internazionale, oltre che nazionale. Cosa si dice di Chieti Classica fuori confine? Ma guardi, onestamente io non conoscevo Chieti Classica e devo dire che sono rimasto stupito dalla quantità di eventi, dalla qualità degli eventi e dall'organizzazione. una città che vive in continuazione tutto il giorno con tutti questi giovani che vengono per fare le masterclass, per il concorso e quindi penso che per la città sia una bella cosa. Adesso che ho visto anche la qualità dell'evento sarà mia cura pubblicizzarlo anche all'estero.